La buonasera a tutti ragazzi, indovinate dove siamo stasera? Siamo a Pollonica di Grosseto, in riva al mare, posto bellissimo qui d'estate, deve essere una cosa fantastica ma noi non ci spaventiamo del mare d'inverno, qui è veramente una cosa eccezionale siamo tantissimi ovviamente, è la prima volta che veniamo qua in terra di Pollonica con il nostro format serata dei singoli in tour, ho qua uno dei titolari, qua alle mie spalle ragazzi, siamo veramente alla grande questa sera siamo tantissimi, un numero indefinito fra 100 e 200, non so nemmeno esattamente quanti saremo stiamo per indifiare la serata dei singoli ragazzi, state online perché siamo veramente tanti singoli in tour forever, ecco qua, benissimo, partiamo con la diretta 5 minuti, 5 minuti buonasera ragazzi, ciao dopo vi faccio le foto, adesso sto facendo la diretta, dopo vi faccio la foto io non mi sono cambiata buonasera a tutti, voglio sentire un applauso vai Pollonica, siamo qua buonasera, benvenuti, benvenuti qua grazie per essere così numerosi io mi chiamo Celestino, vi presento sono colui che ha inventato questo format, che si chiama serata dei singoli tour vi presento la titolare, i titolari, come li chiami? Shamed Shamed, da dove vieni Shamed? Italia da lì c'è, bene, anch'io, perfetto, vivo l'Italia